Bene, per essere chiari, come si dice, per completezza dell'informazione, le strutture che dovrebbero poi essere al servizio anche come punto di, come fosse per i prodotti locali, vabbè, ne abbiamo tanti, Donna Fugata, insomma non va poi così bene, sarebbero queste qua, che erano proprio lo scalomerci, il deposito delle merci e gli uffici dello scalomerci. Certo, ora sembrano un po', come posso dire, precarie, però devono essere sistemate e lì poi si potranno fare altre cose. Detto questo, cambiamo argomento e andiamo a parlare di un incontro che c'è stato oggi, di un'associazione che parla di immigrati, immigrati, immigrati e in qualche modo è collegata anche ai ragusani nel mondo, ragusani nel mondo che dopo domani, sabato, avranno la loro giornata di grande effetto con i cugini di campagna, mi fa un po' ridere però sarà senza dubbio tantissima gente. Ma vi posso dire una cosa, che i cugini di campagna saranno a Ragusa sabato e poi mi pare che martedì ci sarà Orietta Berti a Pozzallo. Cioè questi sono persone che non scompaiono mai, come Albano, come Gianni Morandi, sono quelle persone che sono 50 anni, che fanno musica e si vede, la facevano bene, perché nessuno li dimentica, anzi sono sempre tante le persone che li vanno a vedere. Andiamo a vedere questa associazione, il presidente De Bona le domande le fa a Peppe Lizio.